ti prego apri sta porta già accendo la luce oh ma quanto ci sta a uscire e se sembra che è uscito da un'altra parte minchia ma si sta lottando tutto ma non ci ha sentito ma è uscito veramente te coppia di prendere l'arma che tu c'hai 153 io c'ho 133 ora lui c'è mica ma quanto ci sta a uscire cazzo fa uccidemi in due secoli hai ucciso ah porca cazzola mi ha fatto una cazzata non ti devo ascoltare ma non ti devo ascoltare qua a Grazie a tutti